Nella classifica del Sole 24 Ore sul gradimento dei presidenti delle regioni e dei sindaci delle principali città italiane, il governatore Marco Marsiglio si colloca al tredicesimo posto, il primo cittadino dell'Aquila, Pierluigi Biondi, all'ottavo. Ed è quanto emerge dalla nuova edizione della tradizionale indagine annuale Governance Poll, effettuata da noto sondaggi per il Sole 24 Ore e pubblicata oggi, lunedì 5 luglio. Un sondaggio che coglie i trend degli amministratori locali 16 mesi dopo l'esplosione della pandemia e in una fase caratterizzata dal calo dei contagi da Covid-19 e prospettive di ripresa di tutte le attività economiche grazie al crescendo della campagna di vaccinazione. Governance Poll 2021 vede Luca Zaia, governatore del Veneto, e Antonio De Caro, sindaco di Bari, riconfermati al primo posto della classifica degli amministratori locali più popolari in Italia, rispettivamente con il 74% e il 65% delle preferenze. Il sindaco di Chieti, Diego Pietro Ferrara, è al 42esimo, il primo cittadino di Teramo, Gian Guido d'Alberto, è al 54esimo, mentre il sindaco di Pescara, Carlo Masci, è all'81esimo. Il presidente Marsiglio di Fratelli d'Italia scende dal 49,4% della precedente rilevazione al 45%, meno 4,4%. Il sindaco Biondi ha il 59% dei consensi rispetto al 53,5% del precedente sondaggio. Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, dal 55,8% dei consensi, è sceso al 55,5%. Gian Guido d'Alberto, dal 53,3% dei consensi, scende al 53%. Carlo Masci, dal 51,3%, passa al 49%.